Due siti di discarica restituiti alla comunità, Valle Anzuga, Francavilla, Almare, Valone, Maltempo, Avasto. Questa mattina in visita in Abruzzo il presidente della Commissione Ambiente, Mauro Rotelli. Adeguarsi alle nuove normative è un dovere verso l'ambiente e le persone anche verso ciò che l'Europa ci chiede. Due buone pratiche, due situazioni risolte attraverso l'operato del generale Vadarà e del suo gruppo di lavoro. La questione della discarica qui e anche nella prossima dove andremo a vicino Vasto sono in via di conclusione o addirittura come in questo caso concluse e messe in sicurezza. E questo già mi sembra una ottima notizia. Ora bisogna cercare di capire come poter utilizzare o portare a riutilizzo queste zone. Circa 700 mila euro i fondi del governo investiti sul progetto di messe in sicurezza del sito di Valle Anzuga. Progetto portato a compimento su Vallone Maltempo toccherà attendere giugno 2024. Il Comune aveva già avviato i lavori che si erano bloccati per un contenzioso per cui la discarica poi è stata commissariata. Nel giro di un anno e mezzo anche grazie ovviamente alla sinergia col Comune, con Arta e con altri soggetti siamo riusciti a porre in sicurezza il sito. Cosa vuol dire? Abbiamo creato un capping isolante dei rifiuti, abbiamo fatto in modo che i rifiuti non percolassero, abbiamo fatto in modo che i rifiuti fossero isolati e quindi qui si può anche fare qualsiasi tipo di attività. Ovviamente non si possono installare degli alberi perché gli alberi andrebbero a romirare questo capping, ma si può fare un parco, si può fare una qualsiasi altra cosa. L'amministrazione ha avuto un ruolo centrale, proprio il sindaco Luisa Russo già sta ponderando la fattibilità dei vari progetti green. Voglio sottolineare con soddisfazione l'ottima collaborazione istituzionale con il generale Vadalà, con lo Stato nel restituire ai territori delle discariche a volte abbandonate, a volte abusive. Su terreni restituiti all'utilizzo si possono impiantare magari dei pianti fotovoltaici. E' anche un bel modo, una sorta di contrapasso positivo, sono luoghi che hanno rappresentato inquinamento e problematiche ambientali, vengono oggi potenzialmente riutilizzati per invece l'economia circolare e le energie rinnovabili.